Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e radicalmente. Le nostre regole e le nostre industrie devono evolversi al stesso ritmo. Non può eserci competitività senza protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro secure, adeguate e giuste. L'azione, l'automazione e un'progressiva rielosione dell'equilibrio vita-lavoro sono solo alcuni fenomeni cui dobbiamo prestare attenzione in vista dei crescenti rischi psicosociali per i lavoratori.